Secondo te, tra il Movimento 5 Stelle, Mario Monti e Salvini, qual è l'operazione di marketing meglio riuscita? Allora, quello del Movimento 5 Stelle è una grande operazione di marketing, Salvini sta facendo una grande operazione di marketing, ma io credo che Mario Monti sia l'operazione di marketing più riuscita, perché alla fine in qualche modo anche la Lega dei Salvini e il Movimento 5 Stelle ragionano con la testa di Mario Monti. Grazie a tutti!